Hai mai immaginato cosa accadrebbe se il cuore di Greta si trovasse a navigare tra le acque turbolente del passato e le promesse incerte del futuro? Scopriamolo insieme, affrontando l'ultima scossa nel Grande Fratello. Unisciti a noi. Clicca su iscriviti e immergiti nella nostra community. Greta ha annunciato al mondo intero una svolta epocale, mettendo fine alla sua storia con Mirko. Sei curioso di conoscere ogni dettaglio? Bene, ecco quanto è accaduto. Greta, senza mezzi termini, ha confidato a Massimiliano varrese particolari che hanno lasciato tutti senza fiato, gettando luce sul suo passato con Mirko. Questa rivelazione è stata carica di significato, e Greta ha spiegato chiaramente il motivo alla base della sua scelta. Ma aspetta, c'è di più. Il pubblico è rimasto incollato a ogni parola, rapito dall'importanza di ciò che è emerso. Durante la sua conversazione al Grande Fratello, un altro momento memorabile ha scosso la casa, il bacio con Federico. Dopo un commento imbarazzante ma intrigante durante l'allenamento, Federico si è avvicinato e ha risposto con un bacio. La casa è esplosa di felicità, e sui social è nata una nuova «ship». Quali futuro immagini per Greta nel Grande Fratello? Tornando alla decisione di Greta su Mirko, è stata chiara nel dire a Varrese che è giunto il momento di voltare pagina definitivamente. Ha confessato di sentirsi sollevata dal senso di colpa che la tormentava, dichiarando che la separazione non è stata solo colpa sua. Massimiliano ha sostenuto questa scelta, evidenziando quanto sia fondamentale analizzare senza attribuire colpe, ma capendo le cause e crescendo dalla consapevolezza che ne deriva. Lascia un like se credi nell'amore imprevisto. Insomma, le emozioni nel Grande Fratello sono sempre alle stelle, e le decisioni di Greta hanno attirato l'attenzione di tutti, dimostrando una straordinaria forza e consapevolezza emotiva. Cosa pensi di questa svolta epica? Condividi la tua opinione nei commenti e rimani con noi per altre emozionanti novità dal mondo del Grande Fratello. Se stai apprezzando il contenuto, non dimenticare di iscriverti al canale e di lasciare un like per sostenerci. A presto con altri avvincenti aggiornamenti.